Assessore Paolucci, a Vasto, una conferenza sull'emodinamica. Noi abbiamo intanto rafforzato la rete di emergenza urgenza. Le ambulanze in più che ci sono nel Vastese, San Salvo, Castiglione, Carunchio, Torre Bruna, sono ambulanze in più che non ci sono mai state e che oggi permettono ai cittadini dell'intero comprensorio del Vastese di essere raggiunti e stabilizzati per i cosiddetti patologie salvavita in condizioni migliori, con una tempistica più normale, con diritti aggiuntivi che sono riconosciuti da noi e che non sono mai stati riconosciuti in passato. In secondo luogo noi abbiamo rafforzato la rete dell'Ictus perché il Presidio di Vasto non ha mai avuto la risposta al grande tema dell'Ictus e quindi un altro tema vascolare che è celebro vascolare, che in passato non ha mai visto il Presidio ospedaliero di Vasto dentro la rete dell'Ictus. Abbiamo inaugurato la Stroke dando ulteriore risposta all'intero comprensorio per una importante patologia come questa. Inoltre noi rispetto al decreto Balduzzi-Lorensini che pure dava pochi spazi di manovra, abbiamo approvato un programma e un piano sanitario che ha inserito Vasto quale DEA di primo livello. Non solo non era scontato perché non vi erano i numeri da decreto previsti, ma allo stesso tempo abbiamo salvato decine e decine di reparti perché se fosse stato come prevedeva il decreto un ospedale di base vi erano cinque reparti. Noi invece abbiamo un ospedale DEA di primo livello con circa 15 reparti avendoli sostanzialmente non solo salvati tutti, ma avendo aggiunto la rete Ictus, la Stroke, la lungodegenza, avendo aggiunto il desargeri, avendo aggiunto l'Obi, l'osservazione breve e intanto questo è il lavoro che insieme a Francesco Menna abbiamo fatto per 36 mesi e che nessuna delle persone che hanno avuto incarichi nel passato, che sono oggetto e strumento di questa polemica hanno mai realizzato negli anni passati. Anche perché in questo caso bisogna anche essere chiari, parlano persone che non sono nuove alla politica, da chi ha avuto sei legislature consigliari a chi ha ricoperto altri importanti ruoli politici e non ha mai portato tutto questo in questo comprensorio. Per quanto invece riguarda l'emodinamica noi sappiamo che non soltanto dobbiamo dare questo servizio, ma dobbiamo darlo in ragioni e in condizioni di sicurezza. I pareri tecnici sono tali perché rispondono a quelle che sono le cosiddette reti cliniche. Il grande tema non è l'indirizzo politico che c'è a realizzare questa importante infrastruttura per l'intero territorio, ma a farlo in condizioni di sicurezza, ovvero il cittadino che dovrà rivolgersi a questa infrastruttura e rispondere ovviamente anche di quest'ulteriore diritto che è giusto poter dare anche in questo largo comprensorio e largo bacino lo deve fare esattamente con le stesse garanzie di sicurezza, di qualità, di know-how che c'è in altri luoghi. Questo è il punto. Di qui il mandato dato ai tecnici di operare l'accordo di confine con il Molise, di allargare la casistica e il know-how, di mettere i medici in condizioni di sicurezza per dare il miglior servizio possibile, non un qualsiasi tipo di servizio con bassi numeri e quindi con basse casistiche e bassi know-how. Da questo punto di vista un primo atto c'è perché nel 2018 finalmente arriverà l'angiografo che è lo strumento sulla bassa del quale si può innestare questa prestazione altrimenti non si può fare, per cui non c'è un tema di costi rispetto all'emodinamica, assolutamente, anche perché non ci sarebbero stati nell'eventualità fosse questo il problema agli altri servizi che abbiamo erogato. Piuttosto ci sono lavori da fare per consentire che la sala possa accogliere l'angiografo, reti e know-how da garantire per consentire anche i medici che nel tempo arriveranno per garantire questa prestazione di muoversi nella più totale delle sicurezze. Parliamo sempre di uno strumento che di fatto apre una vena vicino al cuore e quindi bisogna farlo nel miglior modo possibile. Per realizzare questa operazione occorre il tempo giusto per poterlo fare e secondo me non ha senso, se no strumentalmente solo dal punto di vista politico, ogni giorno ricordare che domani deve arrivare, anche perché se fosse stato così, perché non l'hanno fatto le stesse persone nei 30 anni precedenti. Assessore Paolucci, in ultima analisi, la sala di emodinamica a vasto si farà? Se sì, quando? Nel 2018, intanto noi abbiamo già ordinato l'angiografo, bisogna fare i lavori per montare l'angiografo nella sala che probabilmente sarà quella utilizzata anche per l'emodinamica, c'è già il progetto, credo che nel mese di gennaio cominceranno l'anno prossimo questi lavori e sono e penso di poter traguardare entro l'estate prossima la possibilità finalmente di installare l'angiografo a lavori ultimati rispetto a quella sala.